Il contributo non è stato assolutamente un argomento ostico, è un argomento molto attuale, è importante affrontarlo visto che ci sono suddivisioni su basetti in coraziale dappertutto. Prossimamente anche noi a Calabresi decideremo di andare via dall'Italia visto che ormai basta poco, basta un dialetto per dividersi, vediamo cosa succede in Spagna con tutto il rispetto per la Catalogna, ma la separazione che sta avvenendo non è su basi culturali o di classe, anzi è su base di classe perché oggi vediamo che sono i paesi ricchi a volersi dividere dai paesi poveri. Comunque proseguiamo con il contributo del regista Pisano Paolo Benvenuti che ci farà un intervento sulla rivoluzione delle arti, purtroppo non è potuto venire a questo convegno ma ha lasciato un ottimo contributo video. Grazie a tutti. 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 per cui diciamo in casa ho sempre respirato l'aria del comunismo, della fratellanza tra i popoli, dell'internazionalismo eccetera perché erano proprio argomenti che mio padre fin da piccolo mi ha coinvolto in queste storie. Nel 60, durante il famoso governo Tambroni, dopo la famosa storia dei morti di Reggio Emilia e di Palermo io mi sono trovato a quattordicenne a tirare i sassi insieme ai miei amici contro le camionette della cenere del governo Tambroni-Sceppa. Lo stesso giorno, la sera, mi sono presentato alla sede del Partito Comunista e ho detto mi voglio iscrivere al Partito Comunista e naturalmente si mise a ridere i compagni di questo ragazzino che voleva diventare comunista e allora mi mandarono alla FIGICI e mi iscrisse alla FIGICI. Da allora ho continuato la mia strada comunista pur essendo in realtà appassionato di arte, di pittura. Ho dipinto fin da piccolo, ho frequentato la prestigiosa scuola d'arte di Porta Romano a Firenze e mi sono appassionato moltissimo alla storia dell'arte. Il problema della storia dell'arte, degli insegnanti di storia dell'arte, è quello di decontestualizzare il mondo artistico rispetto alla realtà sociale e storica. Per cui, sì, conoscevo artisti importanti come Casimir Malevich, come Chagall, come Kandinsky, però nessuno mi aveva detto che questi avevano fatto la rivoluzione d'ottobre, che questi avevano partecipato all'assalto del Palazzo d'Inverno, cioè che erano pittori, sì, degli artisti straordinari, ma erano anche dei combattenti. Questa cosa gliel'ho scoperta molto tardi, per cui il rapporto fra l'arte e la politica per me era qualcosa di assolutamente strano. Ho cominciato a dipingere, come dicevo, fin da ragazzo e subito dopo la fine della scuola, alla fine del Magistero d'Arte di Firenze, siamo nel 1966, ho cominciato a esporre, ho cominciato a partecipare a premi, a rassegne e ho avuto diversi riconoscimenti. Per cui avevo deciso che da grande avrei fatto pittore, era la mia strada, la mia strada l'aveva già segnata in qualche modo. Sennò che un giorno a Pisa, era alla fine del 67, partecipai con gli altri pittori a una collettiva, in una mostra d'arte di gruppo. Durante questa manifestazione una signora vide un mio quadro e mi si avvicinò, una signora borghese, una signora molto elegante, eccetera, e mi disse «Sano che il suo quadro mi interessa molto, mi piace molto perché ha dei colori molto belli che si intonano perfettamente con le tende del mio salotto, vorrei sapere quanto costa». Beh, voi dovete immaginare, era la fine del 67, si avvicinava al 68, io ero fortemente impegnato nella politica, ero profondamente antiborghese e sentirmi dire una cosa del genere mi fu per me uno shock, uno shock così forte che smisi di dipingere. Perché? Perché mi hanno posto il problema, cosa farò da grande, cosa farò nella vita? Il decoratore delle case borghese se mi va bene? E questa cosa ovviamente non mi piaccia. Allora frequentavo molto l'Arci, il nostro gruppo di pittori si rinuniva all'Arci, che era in Borgo Stretto, e un giorno un funzionario dell'Arci, il Dinelli, il famoso Dinelli, disse «Ragazzi, l'Arci nazionale ha organizzato a Reggio Emilia un seminario di studi sul cinema, c'è qualcuno di voi che è interessato?» Allora, nessuno di noi era interessato, ma nemmeno io tra l'altro, perché per me il cinema era quello che andavo la domenica a vedere i film di Cavoboli, i film di Gialdi, però ero in crisi, non avevo voglia di far più niente, non avevo più voglia di dipingere, avevo postato i pennelli, i colori e tutto. Dice «Ma quasi cosa ci vado anch'io?» Ci vado lì, parto e vado a Reggio Emilia, vado a Reggio Emilia e mi ritrovo in un edificio del sindacato della CGL, che era stato preso apposta da questi professori, da questi critici cinematografici per tenere questo seminario, eravamo una trentina di ragazzi venuti da tutta Italia, e io mi muovevo nelle stanze di questo edificio e a un certo punto vedo che in ogni stanza c'è un proiettore che proietta sulla parete dei filmati. Io mi fermo a osservare, mi fermo nella prima stanza e vedo la ripresa di un grattaccello, l'empare estate building, mi metto lì a sedere con la speranza che accada qualcosa, dopo dieci minuti di grattaccello io mi alzo abbastanza ammoriato e me ne vado. Vado ad un'altra stanza e c'è un altro proiettore che proietta un'altra immagine e si vede un signore che dorme tra i lati su un divano. Mi metto lì a guardare questo signore tra i lati su un divano e questo continua a dormire. A un certo punto si stira e si gira dall'altra parte e ricomincia a dormire. E come dove sono capitato? In mezzo alla gamba di matti. A un certo punto qualcuno gli fa, sono un film importante, sono un film di Andy Warhol. E per chi è Andy Warhol? E come è Andy Warhol? È un artista pop importantissimo, ma io ero rimasto da Picasso, da Braque, da Karnischi, per cui questo signore Andy Warhol non diceva proprio niente. Comunque, ero molto in crisi anche lì e stavamo quasi per decidere di andare via. La sera, dopo cena, a un certo punto ci disse guarda stasera c'è un film russo. Sì, c'è un film russo degli anni venti, alla fine degli anni venti, muto, con sottotitoli in russo. Oddio vai, siamo al suicidio. Adesso è la fine. Entro in questa stanza dove già era cominciato il film e vedo delle immagini strane che mi colpiscono. Vedo dei tram, vedo delle sovrimpressioni, vedo un montaggio incredibile. Dopo qualche minuto il ritmo del montaggio di questo film comincia a produrre dentro di me un forte senso di partecipazione emotiva a ciò che sto vedendo. Tra l'altro questo tipo di montaggio, questo tipo di inquadratura lo sento molto vicino a una forma d'arte che io in quel momento seguo con grande attenzione che è il futurismo. Soprattutto il futurismo di Boccioni. Per cui trovo in queste immagini qualcosa di molto vicino al futurismo di Boccioni. A un certo punto c'è una scena che mi colpisce moltissimo. Si vede un uomo con una grossa cinepresa a due spalle con il suo cavalletto di legno pesantissimo che si arrampica su una ciminiera di una fabbrica per trovare dall'alto di questa ciminiera un punto di vista. Allora, dico, ma porca miseria. Questo con questa macchina che pesa 50 kg si porta sulle spalle si arrampica su una ciminiera per andare a cercare un punto di vista per fare un'inquadratura. ma questo è un grande, questo è un artista perché la ricerca del punto di vista è la cosa fondamentale per ogni artista. Guardare le cose da un punto di vista unico, eccezionale. Questo è il lavoro dell'artista. Trovare il punto di vista. Lì ho un'ispirazione. Dico, porca miseria. Ma allora forse posso uscire dalla mia crisi. Posso trovare una chiave. La chiave potrebbe essere il cinema. Portare la pittura nel cinema. A questo punto chiedo chi è l'autore di questo film che sto osservando. E l'autore è Ziga Vertov. E il film è l'uomo con la macchina da preso. Questo Ziga Vertov è un regista russo, rivoluzionario. rivoluzionario è una forma, ma anche è uno spirito. E da quel momento ho cominciato a pensare al cinema come forma d'arte. Secondo te che risvolti ha avuti, che importanza ha avuto, che riflessi ha avuto la rivoluzione sovietica sull'arte e nel mondo? Ma ha avuto un riflesso fondamentale. Ma lì è un gioco di andate e ritorno. Perché lo sviluppo artistico negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione d'ottobre è stato determinato in qualche modo dall'intuizione di Lenin del fatto che gli artisti che lui aveva incontrato a Parigi, in Italia, cioè i futuristi e i cubisti, potevano diventare elemento fondamentale nello sviluppo artistico del post-rivoluzionario. È stato Lenin, in qualche modo, che ha spinto gli artisti ad andare nella direzione della ricerca e dello sperimentalismo. È stato grazie alla sua intuizione. Il problema è che dopo la morte di Lenin, questi artisti sentono che il loro spazio di manovra si sta riducendo in maniera incredibile e infatti cominciano ad abbandonare l'Unione Sovietica e tornano in Europa, chi va in Germania, chi va in Francia e comportano con sé la propria esperienza che si sviluppa in tutta Europa. Addirittura avvalca anche l'oceano, perché è arrivato fino agli Stati Uniti, l'esperienza, lo sperimentalismo che nasceva all'interno dell'Unione Sovietica, ma in parte anche lo sperimentalismo che si faceva a cavallo tra l'Ottocento e l'Ottocento in Europa, questa rivoluzione, diciamo così, rispetto alle forme artistiche tradizionali si sviluppa a Machia d'Ordia in tutto il mondo. Che dire, in un'Unione Sovietica purtroppo la politica di Stalin porta verso una scelta di realismo socialista che nega in qualche modo, proprio attraverso la retorica che si nasconde dentro questa forma espressiva nega qualunque forma di sperimentalismo per cui addirittura ci sono artisti che vengono messi a tacere gli viene impedito di lavorare alcuni vengono arrestati, altri vengono addirittura uccisi cioè c'è una situazione di ritorno indietro rispetto alle aperture rivoluzionari di Diego. Quello che invece succede in Europa nella prima metà dell'Ottocento, del Novecento è davanti ai nostri occhi per cui in America si sviluppano forme di pittura strata ma anche forme di ricerca realistica sia nel campo della pittura che nel campo del cinema. non ci dimentichiamo che un'influenza fondamentale è stata quella che Eisenstein uscendo dall'Unione Sovietica e venendo in America e poi in Messico ha portato in Europa e nel mondo occidentale ha portato una visione del cinema a livelli artistici mai più raggiunti. il realismo che usciva dagli esperimenti di Eisenstein poi è arrivato fino in Italia e devo dire che se si va a cercare i punti di partenza rispetto al realismo si comincia dai film di Visconti, addirittura prima della guerra poi arriverà Rossellini con la sua rivoluzione neorealistica e parte proprio dall'esperienza del cinema di Eisenstein e ovviamente il neorealismo italiano del cinema è stato in qualche modo la bandiera della sinistra a livello cinematografico con delle intuizioni straordinarie da parte di alcuni registi come Rossellini per certi aspetti, come De Sica come successivamente D'Antonioni cioè le strade della ricerca cinematografica in chiave realistica o neorealistica si può misurare per l'effetto che questo ha prodotto a livello mondiale cioè il nuovo cinema americano non esisterebbe senza il neorealismo italiano per cui tutto questo ha determinato anche dei suoi movimenti a livello politico c'è stato uno scontro violentissimo in Italia per esempio tra la democrazia cristiana e il paese comunista proprio sul terreno del cinematografo ricordiamo la battuta di Andreotti quando parlava del neorealismo italiano del cinema delle distraccioni però Andreotti insieme ai suoi collaboratori hanno fatto di tutto per rompere il fronte neorealista e sono riusciti a coinvolgere Rossellini a trascinarlo nella loro fine per esempio cosa che la sinistra poi non gli ha mai perdonato a Rossellini però devo dire che per quanto mi riguarda i film di Rossellini traditore per me sono dei capolavori assoluti che anche se la critica di sinistra ha sempre boicottato e bocciato io trovo che film come Stromboli, Viaggio in Italia, Europa 51 sono dei film che hanno raggiunto delle vette culturali che nessun altro regista italiano ha mai raggiunto